Dal 2 al 4 dicembre Olbia sarà teatro di una maxi-esercitazione nazionale organizzata dalla Croce Rossa italiana che prevede simulazioni di risposta alle crisi in caso di calamità naturali o antropiche, cioè legate all'intervento dell'uomo. Obiettivo testare le tempistiche e l'efficacia degli interventi anche alla luce degli eventi calamitosi che sempre più spesso colpiscono l'Italia, a Sardegna compresa, negli ultimi anni. Oltre 400 volontari della Croce Rossa coinvolti da tutta Italia, figure altamente specializzate che nei tre giorni simuleranno la risposta dei soccorritori a minacce di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare presso il porto di Olbia, dove è stato allestito un vero villaggio dedicato all'emergenza e alla formazione. Con il scopo di questa manifestazione serve a formare il nostro personale e dare un messaggio importante a questa comunità, quanto sia importante nella fase di formazione e di prevenzione, che il cittadino sappia bene cosa fare, ma soprattutto che le nostre comunità sappiano che in caso di emergenza ci sono delle persone che lavorano con una formazione importante per le risposte all'emergenza. La scelta di Olbia per l'esercitazione non è casuale, nel centro gallurese è stata strutturata una nuova sede nazionale che insieme al comitato territoriale e a quello regionale si occuperà di dare una struttura di risposta alle emergenze del territorio. Abbiamo pensato di posizionare questa struttura per dare risposta alla regione, come dicevo, ma il centro di Olbia diventerà anche un centro per le risposte nazionali e internazionali. Siamo contenti ed orgogliosi che sia stata scelta la nostra città per una sede di emergenza. Oltre a questo centro anche la sede della Croce Rossa cittadina si trasferirà nella nuova sede. Sono già iniziati i lavori, quindi presto vedremo anche questo nuovo e importante centro di emergenza nella nostra città.